Buon caro saluto a tutti gli amici di Game Surf, registriamo questo video che vi rivedrete tranquillamente su YouTube che è il nuovo Play Update, il quinto per la precisione di Play Date che è questo simpaticissimo strumento che sta naturalmente raccogliendo una certa attenzione da parte del pubblico perché c'è appunto questo smanettino che vedete qui lateralmente che si gira, esce, girate la rotellina e fate quello che dovete fare naturalmente si aggiunge ai classici controller che avete a disposizione è particolare, ha avuto un certo successo, naturalmente le vendite cercano di essere contenute ma nel senso buono nel senso che c'è grande richiesta, loro non ne fanno uscire milioni perché a loro non interessa questo tipo di strategia di vendita però riescono a piazzare quelle che a loro interessa produrre, fare e vendere e naturalmente c'è un continuo, anche perché non costa pochissimo e c'è un continuo, costante, diciamo così, upgrade, update dal punto di vista dei giochi quindi ci sono delle uscite costanti nel corso dell'anno più naturalmente, e qui è la parte se volete un po' più intrigante, intrippante ci sono poi tutti i moddatori del mondo che fanno, operano e che attivamente lavorano poi su questo tipo di sistema perché vi dico questo? Perché se avete avuto modo di provarlo c'è la mod di Doom dove la cosa più figa è che quando voi girate questa rotellina qua vi dà anche un po' il senso, la logica della Gatling non so se avete mai visto i film americani in cui fanno vedere un po' nel Far West in cui c'è la Gatling, loro girano e fanno questa cosa e c'è in Doom una sorta di mod in cui appunto viene caricato non ufficialmente Doom ma appunto si muove su questo schermo e quando girate la rotellina ovviamente parte la Gatling che è fantastico, cioè fatto benissimo, il display è molto molto bello il costo però è veramente proibitivo per questo tipo di consolina perché comunque sono veramente tanti soldi, 200€ e per titoli assolutamente indie e abbastanza semplici però insomma sono comunque prodotti tecnologici, prodotti che insomma ci piace andare a vedere, parlare, discutere e togliamoci anche la chat perché non ci interessa più nulla naturalmente troverete in descrizione a questo video l'articolo e viceversa la parte in se ovviamente vedete, se state guardando questo video per forza ce l'avete in descrizione altrimenti è nell'articolo che trovate all'interno il video quindi di qui non ci scappate se state guardando questo si parte ok adesso ci danno qualche parola in generale anche perché ci sono appunto delle informazioni legate a questa console tra l'altro deve essere un fan di Nintendo, non so perché è la camicia che tutti quanti vorremmo non so neanche se Nintendo li può denunciare perché sta facendo pubblicità ma nello stesso tempo non lo è, invece è un po' un casino si stanno vendendone a cannone, non riescono a stare dietro alle richieste quindi è un oggettino che infatti ha, c'è stato un periodo che aveva quasi sei mesi d'attesa dalla richiesta, però adesso stanno cercando di riportare il tutto alla norma ma insomma con dei partner eccetera però sono uno staff minuscolo e che comunque ovviamente è super contento di quello che sta facendo e portando sia alle casse che ai risultati della compagnia adesso stanno allargando anche il loro mercato stanno aggiungendo tutti i paesi in cui appunto adesso stanno distribuendo ovviamente c'è tutta la parte europea, cioè praticamente ne mancavano tutti anche li hanno, dovete acquistarli dovunque vi troviate adesso rifanno un po' il passaggio del catalogo che naturalmente per loro è importante anche perché è parte del servizio che pagate nel senso che appunto voi acquistate la console e acquistate anche la parte del software che è software che arriva e con quale loro poi pagano gli sviluppatori ecco vedere tutto questo bianco così sparato mi acceca però guardate quanto è figo, guardate quanto sono fighe queste gioche guardate quanto sono dettagliati, lo display veramente ragazzi è bellissimo per quanto sia in bianco o nero è veramente fatto con una grandissima idea sono quelle idee che hanno senso cioè è un po' la logica con la quale nasce Wii solo che nasce per una grande compagnia cioè è il controller che diventa parte di quello che è l'esperienza cioè il modo di giocare diventa gran parte del gioco stesso quindi questa rotellina qui è il modo in cui si fruisce di questo media e anche l'estrema semplicità quindi un'estrema semplicità permette anche agli sviluppatori di pagare molto poco o molto meno per lo sviluppo di un titolo quindi diventa tutto interessante per tutti bello comunque cavolo bello cazzo che bello che è stupendo cazzarola bellissimo cazzo lo voglio questo bello bello che stanno andando belli dritti faccio un problema di audio suo vi alzo anche un po' cazzo di giochi più figliissimo ultimi in assoluto un 4 di 4 secondi per dirlo penso che sembra veramente sarà una grande idea è mi ha già rotto le pavie intanto io adoro gli indie adoro il modo in cui vengono gestiti ah il modo in cui si interagisce con i puzzle carino guardate che hanno tutti questo porta play date molto carino buongiorno 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 bello anche questo modo bello anche l'audio il video cioè mamma mia mamma mia che roba che bello bellissimi stupendi cazzarola guardate quanto sono belli i dettagliati non so come facciano sfruttare questo sistema di riduzione di qualità mantenendo il tutto molto interessante avranno probabilmente dei tool di sviluppo specifici che ha giulio e che ha giulio 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 sfruttare la 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 Questa o no. Ciao Romano, mi è convinto. Questo ricorda un po'... c'era un titolo per ios che poi devono valer qualcosa, fantastico. Non fanno leggere le scritte però sono impossibili. Bello questo! Ecco io subito quando vedo dei dungeon mi fanno subito impazzire. Brucia gli occhi sto video però si dovete immaginarlo per una consolina piccolina. Guardate comunque quanto sono fantastiche le idee comunque di piccolissimi sviluppatori. Più vanno almeno e più devono saltare fuori le idee più geniali possibili di immaginare. Io lo adoro, lo dico sempre il mercato indie perché ragazzi lì dietro si annida nel senso buono. Quanto di buono ci sia? Cioè non che c'è soltanto lì ovviamente però... però quando si parla di c'è una crisi nei videogame secondo me sì c'è una crisi nei game che costano 300 milioni e che purtroppo non tutti vogliono. Cioè non è detto che un gioco da 300 milioni la gente li voglia. Un giochino come Balatro costa 15 euro, trovate anche a volte scontato. Ci giocate... io ci ho fatto dieci ore senza nemmeno essermi ne reso conto ed è veramente fatto bene, divertente. perché loro ovviamente gli sviluppatori non ci hanno speso quanto un... cioè conta sempre quanto tu giochi a un titolo oltre quanto sei intrattenuto. Grazie. e finisce qua... vediamo se è l'ultima cosa che dice... qua ci fa vedere un po' di carellata di quello che c'è già... fantastici comunque eh... tanto sono... tanto sono... tanto sono... sì alcuni proprio non si capisce nulla di cosa sia... quindi... Mars After Midnight is coming out March 12th. Not so soon! And if you haven't already, check out the Playdate Podcast. The next episode features my conversation with Lucas Pope. Also coming soon, the second annual Playdate Community Awards. Brought to you by the Playdate Squad on Discord and hosted by Andrew Gantz of Tiny El Machine and Donald Fraser whose upcoming game comment you got a little peek at earlier. The Playdate Community Awards show is happening March 8th. So keep an eye on Donald's social channels and hours for details. And finally, one more fun thing. The catalog is having its first ever sale. Ah, perché ci sono lo sconto. Sì, pensavo fossero tutti inclusi, francamente. Invece no. Forse avete... quando l'ho comprata avete un anno di download o un anno di titoli. Non lo so bene come funziona. Non lo so bene come funziona. E così finisce. Bene, quando sarà pronto, naturalmente leggerete l'articolo che trovate in calce a questo video. Se invece lo state vedendo per la prima volta e nelle prime ore, naturalmente questo è ciò che è stato detto. Io vi ringrazio, alla prossima e ciao. Giuseppe di Dio